e ancora una volta amici di copione non gubbiani io sono copilice 3 e oggi siamo su pokemon marromerda 2 è astuto e qualcosa che ho usato all'oggetto smerda dopo che cos'era si consigli inutili cosa avevo fatto? le mostre di pokemon dipende dai punti di pochino non l'avevo fatto si? poi ecco quello che avevo fatto alla prima parte si è l'unico grabberato in un pacco di occhi ha lasciato il laboratorio professor rock ha acquistato 5 pokeball ha salvato quel gioco e in teoria non pokedex dovrei avere eccoli coi miei amici ah no me lo stavo chiedendo attate un momento ma avevo kermit a livello 8 avevo scoperto una simia vabbè non importa adesso vi faccio vedere il mio team il mio team è composto da come vedete 3 kermit incredibile avevo detto che l'avevo contratto beh fate mostre qua c'è la nostra merda sin da qui ma che cazzo gli hanno fatto è cazzo duro questo qua è al momento il mio team della settimana mi avevo comprato il pokeball però spendiamo di andare a sfidare il giocchietto palestra incredibile io vedo che era quasi si è alzato che è successo un po' cosmeraldo che sape che siamo così oltre devo andare a lavorare lavarmi le scarpe non so perchè mi appucciano di letame vabbè non importa oh il dopo caffè mi sento meglio tu generatore cosa mi sento di nuovo se ti faccio il catturo pokemon dal normale seppi perché benissimo programmato quindi se adesso voglio farlo far partire il filmatino con il turismo tutorial prendo questa pokemon della viola la schiena cambia no troppo bello nel frattempo un luogo allontano da qui vediamo un po' oddio quel vecchietto mi ha umiliato non posso buttarmi giù devo farcela pagare a alcuni costo lì con la tasera in bar ho regalato una conversazione tra due tipi parliamo di esterno fossile di monteluccio secondo la recente apparece legato a controllo mentale ma credo che sarebbe un ottimo perfetto sono davvero un genio giusto put non sappiamo tutti che tipo di locali fomenti oddio questo rigate a monteluccio oh mio dio questo rigate a monteluccio levati i piedi a cazzo sento come ho detto mai le porte si si e questo vecchio te lo farò vedere oh e torniamo qua a smerdopoli si e dove capo andiamo alla palestra questa palestra è sempre chiusa no potrebbero aprire le bornelle invece di spaccare soldi pubblici a sto modo mi vuoi chiamare quei stris ha ragione tutti ho contato un pokemon il pokemon è naff ma che cazzo è quello sempre abbraccio crew sempre abbraccio crew quello ma oh my god posso sperar dato yeah e tu chi cazzo sei ma ho detto che andavano a coprire sigarette cinque ore fa e da cura ci torneranno cosa sono quelle co ah gli alberi lo so si oh chi è chi è che cazzo è cacca cacco ha una caccola eh ma stiamo scherzando Lidl ma stiamo scherzando questa pokeball ah è una pokeball pokeball la metto dove cazzo gliele pare bello mamma mia vediamo eeeh un catepirla proprio strano catturo qualche pokemon strano ma lo so la metto è una pokeball pikachu c'è pikachu no no pikachu no no io non lo catturo non voglio avere un cesso catturo catturo che ho beccato adesso lindl lo catturerei quasi quasi pozione no un pikachu un pikachu no poverello non trovare manco una bella donna scusa ma hai avuto una carriera da boh senza poco potere pozione bene e dobbiamo con vuoi lottare con qualcuno noi con un pokemon serbatico ancora la Lidl non l'ho catturato quello di prima con altri pokemon adesso vediamo luia e anche tu dei pokemon dai lo diamo si io ti sforzo io ti faccio il culo vediamo un po' ricche figlia mosse ufff il turno di widl mi ha dato il camp si lo so ehh è abbastanza forte ehh livello 6 ma il mio kermit non è il mio confronto troppo forte non lo paga ci sono monete sparse i big money è nato che ha dai uso la carta buono latte ci vuoi il stesso bastardo? ehh stai guardando dai uso la carta se ci riesco dai sono stato un for cannerciare e ha fatto la mossa possiamo dire che ce l'abbiamo fatta si fu si poco graffio non è in effetto e sbam 66 punti esperienza perfetto nessuna mossa catepirla dai catepirla contro la merda no ho messo sin da qui e tu non devi catepirla sta usando mosse inutili invece di attaccarmi già farei tornazione sin da qui non sa vai sin da qui no altri due il nemico se ne è dato ciao ciao battuto da uno di livello 3 battuto da uno di livello 3 battuto da uno di livello 3 67 punti ci merita di più sin da qui dai basta ho vinto migliato 72 ma è soldi ma stavo scherzando 4 yeah e io sono Bear Grylls oddio questo è il segreto Bear Grylls non muore per un poco mattina stiamo scherzando dai è deceduto alleluia è morto adesso uso la merda stavolta aspetta se ha rafforzatore scommetto che questo qua proviene da una cosa da quello la qual'era il pokemon che era solamente rafforzatore come che è tipo Magikarp mi cazzo si chiamava e mi sa che Ducotino era così per tanto tempo l'ultimo colpo si o mi si chiamava colpo come se lo era forzatore eh 106 ancora niente la possiamo sentire with bene io lo uso cazzo duro speriamo che va da bene eh no no mi sa che cazzo duro eh se ne andrà non esisterà per tanto cazzo duro si da qui è morto ha fatto un'azione veramente madonna ha fatto un'azione che ha tolto metà vita quasi ha tolto tanto ma è morto uh dai dai mamma mia si da qui dai se fa fa meno schifo di cosa di cazzo duro andiamo sospetta quella pokeball ah è un po' come normale eeeh destra ale ma sei un porco ma sei un porco non non sì ma sei un po' come anche un po' come è un po' come Grazie a tutti